Buona giornata e buona settimana. Prima edizione del telegiornale. L'operazione è riuscita sul piano militare ed è stata distrutta la capacità della Siria di produrre armi chimiche. Sono state queste le parole del presidente francese Macron dopo l'intervento in Siria insieme a Gran Bretagna e Stati Uniti per quanto riguarda il pericolo di armi chimiche. La Casa Bianca ha messo in evidenza che le forze americane ritorneranno dalla Siria e il presidente si aspetta che i partner regionali e gli alleati degli Stati Uniti si assumano una maggiore responsabilità. Intanto ha parlato anche il dittatore siriano Assad, convinto che i missili occidentali non avranno altro aspetto che unire il paese sotto la sua leadership. Intanto l'amministrazione Trump è pronta a colpire Mosca con nuove sanzioni dopo che aveva tentato la Russia di sottomorre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite una risoluzione che prevedeva la condanna da parte degli Stats & Stripes insieme a Francia e Gran Bretagna per il ride in Siria. Un settore vitale e solido quello del vino che nonostante le condizioni climatiche avverse riconverma un'evoluzione elevata e un valore dell'export in crescita. L'ha detto l'assessore alle risorse agroalimentari della regione Puglia di Gioia e alla edizione numero 52 di Vinitali che si è aperta ieri a Verona mettiamo in mostra le nostre eccellenze viti vinicole e tra l'altro bisogna mettere in evidenza come il nostro settore grazie anche all'Ocm vino nell'ultimo biennio 2015-2017 ha avuto risultati positivi. Ed ora un'ampia pagina sportiva, il basket vittoria, importante sofferenza per l'Udas Basket nella quattordicesima di ritorno del campionato di Serie B. I biancazzurri di Agostino Origlio infatti hanno battuto con il punteggio di 66 a 64 la temibile Civitano Marca, gara spregiudicata dei padroni di casa sia in attacco che in divisa con un po' di sofferenza nella parte finale. Origlio si gode il momento e anche di aver centrato i play-out che si rispuderanno contro Fabriano che è stata sconfitta in trasferta dall'amaturi Pescara. Il campionato di Serie A, la tredicesima giornata del girone di ritorno, vede la Uga della Juventus a più 6. I bianconeri infatti hanno battuto in posticipo 3 a 0 la Sampdoria, mentre il Milan ha vermato il Napoli nella sua corsa con uno 0 a 0 che sa molto di Europa. Tra le altre gare della giornata sono stati molti i pareggi, tra cui quello tra Sassuolo e Benevento 2 a 2 di Fiorentina Spal 0 a 0 e del successo pesantissimo in chiave salvezza delle Bologna sul Verona, mentre il derby dell'Olimpico Lazio-Roma termina sì a reti bianche, ma anche con occasioni sprecate da entrambe le parti. In chiusura, le previsioni del tempo per oggi, al nord nuvolosità irregolare con pioggia rovescia e intermittenza, al centro di Sardegna irregolarmente nuvoloso con locali più baschi, più frequenti nelle ore centrali della giornata, al sud e sul Sicilia qualche isolata pioggia al mattino, ma per il resto aperture soleggiate, anche ambie le temperature, al nord tra 17 e 20 gradi, centro di Sardegna 16 e 18 gradi, sud e Sicilia 16 e 19 gradi. È tutto per questa prima edizione del telegiornale, grazie per averci seguito, prossimo appuntamento alle 14 con Lunedisport, a più tardi!